3. Un'essenza della natura basata sulla scienza. Il segreto del benessere, della salute e della longevità è da ricercarsi nella purezza e nelle proprietà degli alimenti che si trovano direttamente in natura. 3 è più di un semplice succo e mette insieme tutto il buono della natura. Bentornati. E adesso è giunto il momento del primo ospite, vorrei qua con un grande applauso Alex Angiolini, direttamente da Mezzogiorno in Famiglia, Rai 2. Bene. Noi di Pianeta Wellness TV ci siamo documentati e non dico niente, è soltanto vedere per credere Rvm. Bentornati, bellissima Alex questa gara in Belgio. Noi di Pianeta Wellness ti facciamo un grande augurio per il tuo successo. Grazie Alex, grazie mille. E adesso signore e signori vedrete la nostra Martina all'opera come cantante. Martina Smith come cantante ragazzi. Prodotta da Zaka Tuck, lei canta Summer Night. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. E bravissima la nostra Martina Smith Un dolce regalo da Pianeta Wellness TV